Dedicato ai meccanismi interni di una macchina da scrivere, l'evento ospitato a Palazzo Lascaris è svolto da Vittorio Marchis. Il docente di storia della tecnologia presso il Politecnico di Torino ha effettuato una vera e propria autopsia dell'apparecchio. Un viaggio non solo all'interno della sua meccanica, ma alla scoperta delle storie che si nascondono in essa. Quali sono i significati nell'andare a sezionare una macchina da scrivere? Ma fare l'autopsia di un oggetto significa vedere cosa c'è dentro, ma non soltanto andare a vedere come funziona, vedere soprattutto quali sono le storie che si sono sedimentate all'interno delle cose, perché le cose lasciano al loro interno tante storie che si sono sovrapposte attraverso le mani degli artigiani che le hanno fatte, attraverso le mani dei progettisti. Quindi in realtà questa autopsia di una macchina da scrivere non sarà tanto la spiegazione di come funziona, ma di cosa questa macchina ha modificato nella nostra società e nella nostra cultura.